Ciao ragazzi buonasera a tutti quanti, ieri ho visto qualcuno che giustamente mi ha detto Alessandro hai fatto una registrazione di 17 minuti ma naturalmente non hai fatto vedere niente Ragazzi io vi chiedo scusa, naturalmente io sono andato a lavorare sul computer ma non mi sono accorto che non avevo cambiato videata Quindi oggi vi mostro passo dopo passo quello che c'è da fare Utilizzeremo pdf per mostrarvi direttamente il logo come c'è da operare E poi andremo a vedere sul 1200 da capo nuovamente cosa c'è da fare per eseguire il collegamento tra logo 8 e il S7 1200 Però prima di iniziare mi raccomando lo sappiamo benissimo Se qualcuno di voi volesse capire come sono partito da zero con la programmazione PLC E ho iniziato veramente a mettere le mani a quello che è questo mestiere facendo programmi partendo dall'inizio e facendo ricerca guasti Qui direttamente sotto in descrizione e nei commenti trovate il link www.ioprogrammo.info Dove potrete vedere direttamente una mia presentazione dove vi mostro che cosa sono andato a fare Allora vado direttamente a cambiare videata Molto bene eccoci qua Questo è il pdf principale che noi andiamo a visionare Proprio per capire come poter collegare e mettere in comunicazione questi due tipi di PLC Allora ipotizziamo un progetto molto semplice Collegamento 1200 e logo dove abbiamo il 1200 che ha un indirizzo P192-168-01 E poi abbiamo il nostro logo che lo possiamo ipotizzare con 192-168-02 Naturalmente qui è stato tagliato ma lasciamo stare l'indirizzo IP Tanto lo decidiamo noi a progetto La prima cosa da fare è direzionarsi e posizionarsi sul programma del logo Quindi andiamo nel nostro programma per gestire il logo E andiamo ad aggiungere il dispositivo cioè il logo Una volta che l'abbiamo inserito all'interno della configurazione Dobbiamo andare a selezionare quello che sono i suoi dati Selezionare mica tanto dobbiamo scriverli Quindi andiamo a inserire quello che è un nuovo dispositivo 1200 Chiamiamo, mettiamo il nome, inseriamo l'indirizzo IP Quindi 192-168-01 Andiamo a mettere la sua subnet mask E naturalmente sia il gateway sì o se no no Andiamo a inserirlo e troviamo questa situazione Dove all'interno del progetto del logo Abbiamo il nostro PC Abbiamo il nostro logo che abbiamo inserito e dovremmo progettare E poi abbiamo il 1200 Successivamente cosa bisogna fare? Andando in nella configurazione direttamente del nostro logo Prendiamo, trasciniamo il filo blu Lo vedete no? Il filo blu viene proprio visualizzato Per creare un collegamento Questo tipo di collegamento naturalmente sarà di un tipo particolare Cioè S7 connection Direttamente la connessione S7 Qui quando apparirà la finestra abbiamo tutti i dati che riguardano il controller della logo E il 1200 che è stato integrato E naturalmente qui abbiamo a sinistra vedete già il codice TSAP Che c'è scritto 20.00 È in formato server Quindi dall'altra parte dobbiamo mettere selezione client E andare a inserire il numero TSAP che abbiamo nel nostro programma del TiaPortal Quindi dopo andremo a vedere che numero ci va messo Qui inizialmente naturalmente viene messo 10.01 Proprio perché già loro sanno che cosa andare a inserire Però ti mostro dove va visto quel numero Secondo Apriamo il nostro TiaPortal Io ce l'ho già aperto Allora il TiaPortal Quando vai a prendere un progetto Può essere già esistente O naturalmente tu lo devi creare da zero Quindi prendi le due casistiche Che sia da zero o che sia già esistente La cosa che devi fare è andare in vista di rete Quindi in network view Qui in network view lo trovi sia qui che qua in alto E nel momento in cui ti ritrovi questa videata Devi andare su connection Vedi qua in alto connection Clicchi Puoi andare a selezionare S7 connection Io non ho nessun collegamento S7 perché lo creiamo adesso insieme E qui sul PLC Tasto destro Vado direttamente ad aggiungere una nuova connessione Attraverso questa pagina Io ho la possibilità di aggiungere tutto quello che mi serve Per mettere in collegamento questi due dispositivi Infatti grazie a questa videata Mi dice qual è il PLC innanzitutto con cui sto E voglio creare un collegamento Successivamente io qui vado a selezionare il tipo di collegamento Che voglio creare E vado ad aggiungerlo Ok Clicco add Mi viene aggiunto Lo vedo qua sotto E poi chiudo Qui Vedi mi viene creato il collegamento Tirando sulla finestrella Andando in proprietà generale Ho la possibilità direttamente di andare a Inserire tutti i parametri che naturalmente ne riguardano In questo caso io per esempio ho un collegamento S7 Tra il mio 1002 e un mio PLC partner specificato Quindi qua non è specificato perché lui non lo sa Ma glielo andiamo a dire Quindi logo 8 Interfaccia La lasciamo non specificata Collegamento lo lasciamo così L'indirizzo IP Io ho già il 192.168.01 Eventualmente uno lo può cambiare in base al progetto che sta utilizzando Ecco che qui io vado a mettere il mio secondo processore Quindi il logo Vado ad impostare il suo indirizzo IP Lo faccio da qua In modo tale che il PLC.2002 sappia Dove andare a direzionare tutte le informazioni Che vuole sia ricevere che inviare Successivamente Al di là del local ID Andiamo su address details Qui andiamo a impostare tutti quelli che sono i dettagli Naturalmente che riguarda la comunicazione Primo step Attenzione Fai molta attenzione Vedi questa punta? Simatic Ah sì sì La devi togliere Non ci deve essere In modo tale che tu puoi qua selezionare Il tipo di numero che vuoi Allora Questo numero Corrisponde a quel numero che ti ho mostrato nel PDF Lo andiamo a vedere Lo zoom anche Vedi questo numero qua Della TSAP Ok Qui Va messo Lo stesso identico numero che è nel Tia Portal Sapendo che Per il logo è il numero 20 Per il 1200 Lo scegliamo adesso Allora Per il logo Che è il nostro partner Andiamo a scegliere il 20 20 00 Vedi? 20 00 Per il nostro PLC Nel PDF C'è scritto 10 Perché ti hanno già fatto l'esempio Noi adesso scegliamo il 10 Per continuare l'esempio Ma naturalmente tu scegli quello che vuoi E deve essere disponibile Non è che nel 10.01 Ok Quindi io qua Nella video data del logo Devo andare a scrivere 10.01 Nel momento in cui giustamente 10 non sarebbe più disponibile E ne ho bisogno di un altro Ok Ho una diversa selezione Che da poter fare Posso prendere anche questa Questo è il codice della TSAP Lo devo andare a inserire Direttamente nella pagina del logo Quindi direttamente qua Ora Naturalmente Ti ho mostrato col 10 Continuiamo l'esercizio col 10 Una volta selezionato Ecco che qui L'unica cosa che devo andare a fare Al di là di salvare il progetto Compilarlo del tutto Creare le funzioni Per mettere in comunicazione Questi due dispositivi Da lì vado a caricare tutto Nel PDFC della 2002 E successivamente vado a fare un test Il test naturalmente Può essere semplice Può essere Innocuo O può essere direttamente Una cosa complessa Dipende dal tuo livello di preparazione E quindi mi raccomando Preparati prima Successivamente Una volta che hai fatto tutto ciò E hai fatto il tuo test Semplice Vai A completare il tuo progetto Hai messo In collegamento Questi due dispositivi Vuol dire che hai già fatto Il 70% del lavoro Perché questo potrebbe essere Anche un esempio semplice Che abbiamo fatto Ma in realtà Quando poi ti trovi Con tutti i dispositivi Alla mano A banco A mettere in comunicazione E lì constatare Senza fare danni Se naturalmente a banco Non si fanno danni Sono fatti apposta Per fare dei test Nel momento in cui Siamo in cantiere Il danno potrebbe essere visibile Quindi cerca di farlo prima a banco Poi spostati a farlo Nella realtà In cantiere In officina E poi dopo Inizia a buttare giù Quello che è una Vera e propria logica Di funzionamento In modo tale Che questi due dispositivi Possono comunicare correttamente Molto bene Dai direi che per questo video Sono riuscito a recuperare Il problema E l'errore che ho fatto Chiedo scusa ancora Un mito al pura E Per tutti coloro Che naturalmente Stanno partendo a zero E vogliono scoprire Come io Sono riuscito a fare Anche queste cose Passo dopo passo Trovate qui in descrizione E nei commenti Il link Dove potete trovare Un video lezione Totalmente gratuita Dove vi spiego Passo dopo passo Quello che ho Imparato nel tempo Quindi www.ioprogrammo.info Noi ci vediamo All'interno Delle prossime lezioni Ciao